riso, pollo, tacchini e brisaula l'80% del segreto del mio successo è la dieta il primo articolo che è uscito su un giornale di gossip è stato un petto di pollo, riso e brisaula allora, cibi leggeri, che si possono digerire facilmente hai più mente e riesci ad andare più in alto questo è il mio segreto che dire, amici che hanno perduto in me adesso ho fatto un carico di tacchini così, che brisaula ci vorrà un carrellino e allora seguitemi perché vi darò dei segreti sulla dieta, sull'alimentazione dopo c'è la prova costume, c'è quello degli addominali dunque, followatemi Lorenzo, un grande Vittorio, esperienze da forma sì, Vittorio è l'emblema della giovanità, della semplicità è molto più di un atleta è un ottimo rappresentante dei nostri valori legato alla sua terra mai cose scontate, mai cose banali gli facciamo un grande bocca al lupo e siamo felicissimi di poterlo accompagnare Gigi, le aspettiamo in Valtellina? assolutamente sì, lui conosce bene la Valtellina e poi con la presaula, che ha appena letto quindi, uniti, andiamo giù io non ammazzo la presaula sono arrivato un giorno a mangiare quasi due chili poi la sera è tutto vero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti